BOOM amici di UnPadx2! Lo so, lo sappiamo, è un po' che non ci vedete. Scusateci ragazzi, non siamo stati molto bravi, ma c'è un motivo, perché? Allora, fondamentalmente stiamo rivalutando un sacco di cose e quindi con queste anche il canale stesso, che subirà dei grandi cambiamenti e noi non vediamo l'ora di farveli vedere, perché ci saranno un sacco di novità, un sacco di nuovi video, ma soprattutto... Ma tu non smetterai mai di gesticolare come un super italiano? Dai, soprattutto! Un nuovo centralissimo tema che adesso non vi sveleremo, ma che verrà svelato con i nuovi contenuti. Quindi il motivo per cui adesso non vedete uscire video è perché semplicemente stiamo lavorando nel backstage per creare tutto ciò che sarà quando sarà ora di aprire il sipario sul nuovo canale. E' sempre un put per due! Che è sempre un put per due! E' sempre noi! Però cambieranno alcune cose ed essendo che è un cambiamento un po' radicale, non vi diciamo più niente perché sennò fate come Abandoned e andate a trovare gli indici dentro il video. Noi vi lasciamo qui col fiato sospeso, con l'hype, non ci vorrà molto e speriamo di vederci il prima possibile. Grazie mille se siete rimasti sul canale, nonostante non abbiate visto i contenuti caricati in maniera continuativa. Vuoi salutare se vuoi? Ah va bene! Ci vediamo al prossimo video! Ciao!